ciao a tutte ragazze bentornate sul mio canale oggi mi vedete così stile natura perché sicuramente più tardi andrò al mare non avevo voglia di fare un trucco pesante o particolare o solo un po di mascara correttore e gloss e tutto qui allora sono stata all'euro spin quindi ho fatto la spesa all'euro spin però ho preso anche qualcosa alla conad e qualcosa in un piccolo negozio di cibo biologico naturale non saprei esattamente come dire perché un mix fra una bio profumeria però appunto anche cibo quindi non vi so spiegare esattamente allora quindi ho deciso di raggruppare tutto anziché fare tre video singoli anche perché non sono tantissime cose quindi ho deciso di raggrupparli allora cominciamo dall'euro spin dal freezer non ho preso niente ma ho preso delle così nella frigo allora le solite mozzarelle che adesso anziché prendere quelle lì della land prendiamo queste qui che sono pascoli italiani 100 per cento latte italiano sono quattro mozzarelle da 125 grammi e ci piacciono un po di più cioè si sente la differenza del sapore quindi prendiamo queste poi io da amante di formaggi ho preso l'emmental questo è l'emmental svizzero quello lì originale che era in offerta come al solito mi faccio scorrere i prezzi perché vi viene molto più comodo mano a mano vederli viene anche più comodo a me non cercarli sempre nello scontrino poi ho preso un pezzo di parmigiano questi sono 250 grammi e il grana padano riserva riserva venti mesi io amo il parmigiano cioè non so vivere senza e poi ho preso i soliti bourdon blè questi qui prosciutto e formaggio sono da mezzo chilo due ore e 49 sono quattro dentro e mario li ama e li adora come sapete quindi ci sono in ogni mio suota la spesa anzi volevo dire questa cosa che proprio tutti i miei suota la spesa sono quasi tutti uguali perché prendiamo quasi sempre le stesse cose si ogni tanto proviamo qualcosa di nuovo di nuovo ma in linea di massima vado sempre con la premura quindi vado a prendere sempre e più o meno le stesse cose poi abbiamo preso appunto le solite capsule del caffè queste qui le don jerez queste le oro e poi ho preso una confezione di questo qui decaffeinato per me perché io non bevo il caffè per quando mi viene magari voglia ora d'estate con un po di latte freddo giusto così per fare un piccolo break poi abbiamo preso bicchieri di plastica questi qui normali sono i classici bicchieri infrangibili come li chiamano loro è una confezione di questi qui per il caffè poi abbiamo preso due confezioni di hamburger di panini per hamburger che anche questi qui erano in offerta e sono tre preferiti di mario praticamente e quindi abbiamo deciso appunto deciso di di prenderglieli anche con quelli della cona che si trova molto bene però mi trovavo lì questi erano in offerta e quindi li ho presi poi una confezione di pane tramezzino questo è quello lì già tagliato senza crosta da 400 grammi anche questo prendiamo quello lì allungato prendiamo questo comunque non può mancare mai ultime cosine che abbiamo preso allora ho preso i cracker leggeri questi qui della tre mulini come sapete io li amo hanno il 40 per cento di grassi in meno ma dico non li prendo per questo perché proprio mi piace il sapore sono così proprio belli chiari mi piacciono mi piacciono veramente tanto anche se l'ultima confezione che ho comprato erano troppo cotti a me non piacciono le cose troppo 8 io preferisco anzi più crudo quindi avevano sapore di abbrustolito invece li preferisco di così proprio bianchi anemici comunque questi li mangio così da soli o vi faccio vedere poi più tardi più tardi più avanti cosa ho comprato in quel negozietto che mi dicevo poi ho preso una confezione di cacamaro questo qui lo uso per lo più da mettere nel latte metto un cucchiaino di questo perché non ha zucchero e quindi lo mangio tranquillamente ecco nel latte o nello yogurt però di più mi piace nel latte poi ho voluto prendere di nuovo questa mela e mirtillo la la specie di confettura la polpa non saprei esattamente polpa polpa di mela e mirtillo anche questa è completamente frutta senza zuccheri aggiunti e poi ho preso uno di questo che è mela e frutti rossi 100 per cento frutta che appunto un succo che mi porto facilmente in borsa quando magari sono fuori per uno spuntino veloce altra tutto questa la mangio con questi anche questa qua quindi per fare delle merende così magari più sana e più leggere e poi abbiamo preso una confezione di carta igienica che questa la soft dream che è la mia preferita praticamente quindi quando posso e vado all'eurospin appunto la prendo sempre la vedete anche questa in ogni svuota la spesa allora conservo tutto e vi faccio vedere invece cosa ho presa la conad allora eccomi qui con lo suo della spesa conad quindi ci sono delle cose che ultimamente non prendo più all'eurospin perché non mi sono trovata bene e quindi mi appoggio sempre un altro supermercato e per lo più come potete vedere dai miei svuota la spesa vado al conad allora intanto vi faccio vedere cosa ho preso di frutto e verdura quindi ho preso un chilo di kiwi e questi prezzi ve li dico direttamente a 2 euro e 70 perché l'ultima volta se vi ricordate ho preso quelli dell'eurospin ma non mi sono trovata bene cioè non mi sono piaciuti molto e quindi ho voluto prendere questi poi ho preso un chilo di zucchine che sono venute 1 euro e 74 ed erano quelle verdi scure perché purtroppo quelle verdi chiare non c'erano poi ho preso una confezione di carote queste non so il prezzo comunque sono 750 grammi il prezzo ve lo faccio scorrere qui e poi ho preso le mozzarella ho trovato queste qui della sole della linea belli snelli mozzarella light 50 per cento di grassi in meno fatte con latte pastorizzato quindi le voglio provare non le avevo non le ho mai prese e poi ho preso lo yogurt bianco al naturale questo qui è intero sono due vasetti da 125 grammi mi piace di più di quello dell'eurospin e quindi appunto ho voluto prendere prenderlo poi c'erano in offerta le capsule quelle lì compatibili in espresso della caffè borbone e quindi abbiamo preso anche una confezione di questa sono 10 capsule poi c'erano in offerta i dentifrici questi come sapete insieme colgate sono fra i nostri dentifrici preferiti molto comoda la confezione perché sono sei tubetti ed erano a 3 euro e 99 quindi stra stra conveniente un'altra cosa che non prendiamo più l'eurospin nella pasta perché ho letto che appunto la pasta della dell'eurospin nella pasta della lidl sono piene di pesticidi ho visto una classifica hanno fatto anche un servizio a strisciare la notizia e fra le liste praticamente delle paste più vendute in italia c'erano queste e sono proprio l'ultimo posto perché hanno un cocktail di pesticidi allucinante e quindi io non faccio mai tantissimo caso a queste cose però questo della pasta proprio mi è rimasto impresso e quindi ho deciso di eliminare appunto la pasta dei discount e allora ho preso una confezione di pasta integrale della de cecco che questa qui ho preso le mezze le penne ericate e non le ho mai provate un pacco da mezzo chilo e vi farò sapere come li trovo poi ho preso una confezione di vitalini della boiatti e questa era da confezione da un chilo e poi ho preso sempre da un chilo la confezione di farfalle della de cecco quindi queste erano le paste che abbiamo preso poi un'altra linea che mi trovo appunto benissima lo trovo alla conat è la linea della misura la linea senza zuccheri aggiunti che è questa come sapete già avete visto questi cereali che avevo detto sì sono un po caretti per essere 350 grammi vengono quasi 4 euro però ragazzi mi sono trovata bene a parte che sono proprio buoni 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 cioè non si sente che non hanno lo zucchero mi piacciono di più rispetto magari ai conflex normali con lo zucchero quindi sono fantastici questi sono di frumento integrale riso e avena ricchi di fibre senza aromi ma sono veramente la fine del mondo quindi ho voluto ricomprarli poi sempre della stessa linea ho preso le fette biscottate sempre della misura sempre senza zuccheri aggiunti sono con farina di tipo 2 ed è una confezione da 320 grammi le proverò e poi giusto per togliermi qualche volta lo sfizio dei biscotti ho voluto prendere questi che sono sempre della misura sempre a linea dolce senza zuccheri aggiunti farina tipo 2 e sono biscotti preparati con yogurt uova fresche da gallina allevate a terra senza olio di palma meno per cento di grassi saturi rispetto alla media dei frullini più venduti della misura e qui c'è il sito e quindi anche questi qui non vedo l'ora di trovarli quindi questa era la spesa che ho fatto al conad adesso vi faccio vedere tre chicchettine che ho preso in quel negozietto di cui parlavo e che già ho aperto perché naturalmente doveva assaggiare arrivo subito allora sono stata in questo negozio che si chiama celiavegando per chi è qui della della zona appunto del cibo ha una parete tutta di cibo per celiaci la linea senza zucchero per diabetici diverse linee molto per me molto interessanti e poi a tutta la linea bio della bio profumeria ad esempio la linea già da per i capelli infatti mi ha dato dei campioncini a proposito vi faccio vedere anche i campioncini e alla puro bio a comunque dalle linee diverse quindi è un negozio un po misto e si chiama appunto celiavegando quindi per chi magari vi seguete della zona facciamo un po di pubblicità allora ho voluto prendere questi sono già aperti questi biscotti e allora la linea si chiama sotto le stelle io non conosco non conoscevo nessuna di queste marche di questi prodotti perché non è mia abitudine comprare in questi posti però mi trovavo lì e quindi prima di vedere questa linea della misura volevo avevo voglia di biscotti e quindi ho preso questi qua senza zucchero allora questi sono farro integrale sono frollini di farro con olio di girasole senza latte senza uova e al posto del dello zucchero hanno lo sciroppo di riso e quindi ho voluto provare questi allora è un pacco da 300 grammi e l'ho preso 3 ore 80 e i frollini sono così sono questi qui rotondi sono molto buoni devo essere sincera e non si sente che non hanno lo zucchero ma penso sia normale comunque perché appunto c'è questo sciroppo di riso poi ho voluto prendere questa barrettina di cioccolato fondente questa è di alce nero l'avevo vista sul canale di analisa superstar la conoscete sicuramente tutti quindi inutile vi dico vi spiego chi è il link cioè è un mito praticamente e allora ho voluto prendere questo premetto che io amo il cioccolato o bianco o al latte quindi non amo il fondente per causa di forza maggiore visto che non posso mangiare questi benedetti zuccheri ma ogni tanto voglia di cioccolato ho detto no devo provarlo avevo preso tempo fa se vi ricordate quelli dell'eurospin che avevano tipo l'80% fondente all'80% fondente al 75% al 92% però mi è sembrato quello lì eccessivamente amaro c'è proprio allora ho assaggiato questo di qualità cioè con tutto questo è al 100% e non ha zucchero appunto è molto meno amaro di quello cioè è amaro ma al punto giusto quello in confronto è proprio veleno questo invece è proprio buono gli ingredienti sono pasta di cacao burro di cacao baccelli di vaniglia biologico non contiene lecitina e soia e soia cioè senza glutine senza niente veramente buonissimo non so quanto l'ho preso perché allora mi ricordo il prezzo dei biscotti e poi in tutto ho pagato 10,40 euro quindi biscotti il cioccolato è questa crema di arachidi anche questa come potete vedere iniziata allora questa è della marca Rapunzel non la conoscevo assolutamente ed è una crema di arachidi 100% arachidi cioè quindi anche rispetto a quella del todis a quella che si trova in giro non ha niente che quella magari ha un po' di sale ha l'olio di semi di girasole questa non ha niente cioè vi faccio vedere gli ingredienti 100% arachidi quindi potete leggere qui ed è buonissimo allora è un po' liquidina come potete vedere ma forse anche per il caldo di questi giorni ma io la giro poco poco e me ne mangio veramente una cucchiaiata sui crackers leggeri quelli che vi ho fatto vedere prima buonissima la fine del mondo e sono allora il vasetto è da 250 grammi e 100 grammi hanno 615 calorie quindi non mi sembra neanche esagerato perché comunque più di un cucchiaino non lo riesce a mangiare almeno io non lo riesco a mangiare quindi è fantastica quindi ho preso questo il cioccolato e i biscotti e ho pagato 10 euro e 40 appunto questi erano 3,80 non so questi perché mi ha fatto una battuta unica nello scrittino e quindi questa era la mia space guccia appunto che ho fatto euro spin conad e celia vegano ah mi faccio vedere i campioncini che mi ha dato allora è stata veramente gentile e mi ha dato intanto due campioncini della giada io questi ho sempre voluto provare gli shampoo e la crema per i ricci perché ho visto sempre delle recensioni molto positive allora uno appunto è lo shampoo modellare lo shampoo modellante ricci per capelli ricci e mossi e poi mi ha dato la crema modellante ricci per capelli ricci e mossi formula a base di estratti vegetali e biologici quindi lo proverò li proverò e se mi piacciono li andrò a prendere e poi mi ha dato una crema performante più primer quindi sarà una sorta di BB cream che però qua c'è scritto DD cream della linea light natural unique non la conosco sinceramente che è questa qui e poi mi ha dato un fondotinta però mi spiegava che è molto leggero è molto simile a una BB cream appunto della Puro Bio questo è il drop foundation senza nickel antinquinamento la colorazione è la 2 con SPF 10 quindi anche questo lo proverò ed eventualmente potrei farci un pensierino e niente ragazzi appunto questa era tutta la mia spesuccia il video stavolta forse è venuto un po' più lunghetto però non voleva la pena dividere in più parti quindi ho raggruppato tutto insieme io vi ringrazio come al solito per aver guardato il video scusate la mia miss poco presentabile magari un po' natura ma adesso d'estate abituatevi perché più o meno sarò sempre così e quindi niente ragazzi io vi mando un bacio grandissimo e noi come sempre se vi faccio ci vediamo al prossimo video ciao